La guerra di indipendenza americana, nota anche come rivoluzione americana, fu un conflitto armato che si svolse tra il 1775 e il 1783 tra le 13 colonie americane e il Regno Unito. La guerra si concluse con la vittoria delle colonie e la nascita degli Stati Uniti d'America. Cause della guerra Le cause della guerra di indipendenza americana sono molteplici e complesse. Tra le principali si possono annoverare il crescente malcontento delle colonie nei confronti del governo britannico. Le colonie americane erano governate dal Regno Unito attraverso un sistema di governo rappresentativo, ma avevano poco o nessun potere decisionale sulle proprie leggi e tasse. Questo malcontento si acquì nel corso del XVIII secolo, quando il governo britannico impose una serie di tasse e leggi che le colonie consideravano oppressive. L'influenza delle idee illuministe Le idee illuministe, che promuovevano la libertà, l'uguaglianza e l'autodeterminazione dei popoli, ebbero un forte impatto sulle colonie americane. Queste idee contribuirono a diffondere l'idea che le colonie avevano il diritto di separarsi dal Regno Unito e formare un proprio governo. La guerra franco-indiana La guerra franco-indiana, 1754-1763, fu un conflitto tra il Regno Unito e la Francia per il controllo del Nord America. La vittoria britannica nella guerra costrinse il governo britannico a spendere ingenti somme di denaro per la ricostruzione delle colonie. Per recuperare questi costi, il governo britannico impose una serie di nuove tasse alle colonie, che furono viste come un ulteriore segno di oppressione. La guerra La guerra di indipendenza americana iniziò ufficialmente il 19 aprile 1775, con la battaglia di Lexington e Concord, in Massachusetts. In quella battaglia, i miliziani americani sconfissero le truppe britanniche. Questa vittoria fu un importante punto di svolta nella guerra e diede coraggio agli americani a continuare a combattere. La guerra proseguì per otto anni, con alterne fortune. Le truppe britanniche erano più numerose e meglio equipaggiate delle truppe americane, ma gli americani erano più motivati e combattevano per la loro libertà. La svolta della guerra avvenne nel 1778, quando la Francia, che era in guerra con la Gran Bretagna, si schierò dalla parte degli americani. La Francia fornì agli americani armi, denaro e truppe, che furono fondamentali per la vittoria americana. La guerra si concluse il 19 ottobre 1781, con la resa delle truppe britanniche a Yorktown, in Virginia. Il 3 settembre 1783, il Trattato di Parigi sancì la vittoria degli americani e la nascita degli Stati Uniti d'America. Conseguenze della guerra La guerra di indipendenza americana ebbe conseguenze di grande portata, sia per gli Stati Uniti che per il mondo intero. Per gli Stati Uniti, la guerra significò la nascita di una nuova nazione, libera e indipendente. La guerra rafforzò anche l'identità americana e contribuì a creare un senso di unità tra i diversi stati che, componevano la nuova nazione. Per il mondo intero, la guerra di indipendenza americana fu un esempio di successo per i movimenti indipendentisti. La guerra contribuì a diffondere le idee illuministe e a promuovere la causa dell'autodeterminazione dei popoli. Personaggi importanti Tra i personaggi più importanti della guerra di indipendenza americana si possono annoverare George Washington, comandante in capo dell'esercito americano.Thomas Jefferson, autore della dichiarazione di indipendenza Benjamin Franklin, diplomatico e scienziato Alexander Hamilton, politico e economista La dichiarazione di indipendenza La dichiarazione di indipendenza è un documento fondamentale della storia americana. Essa fu redatta da un comitato composto da Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Paine. La dichiarazione afferma che tutti gli uomini sono creati uguali e che hanno il diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Essa inoltre afferma che il governo britannico aveva violato questi diritti e che le colonie americane avevano Il diritto di separarsi dal Regno Unito e formare un proprio governo. La dichiarazione di indipendenza fu adottata dal secondo congresso continentale il 4 luglio 1776. Questa data è celebrata negli Stati Uniti come il giorno dell'indipendenza. Grazie a tutti.